Buongiorno a tutti, benvenuti a questa nostra presentazione interna dell'uscita per l'uscita del primo turno del bando Erasmus 3 Iniship e del bando Exchange Extra UE relativi all'anno accademico 2018 e 2019. Sono Agnese Koffler, sono responsabile del settore affari internazionali, qui con me c'è la collega capo ufficio mobilità internazionale che è la signora Federica Oliveri e poi ci sono le colleghe che poi troverete anche allo sportello, la signora Damiana Bagnoli, la dottoressa Daniela Cozzi, la signora Federica Oliveri. Ecco questo lo dico così con un po' con un sorriso sulle labbra, le informazioni che rilasciamo qui sono le stesse informazioni che poi trovate allo sportello, quindi siamo allineate fra tutto lo staff dell'ufficio del settore per fornirvi le informazioni in maniera coerente e appunto corretta sia in questa sede che allo sportello che non è altro che poi trovate scritto all'interno dei bandi. Noi cerchiamo di fare queste riunioni informative per aiutarvi un po' ad avere un inquadramento generale di quella che è l'offerta di mobilità internazionale per voi. Questo non vuol dire che non sarete esonerati da leggere il bando. Capiamo che il bando è un documento un pochino lungo, però lo abbiamo voluto così e lo abbiamo suddiviso per capitoli di modo che lo studente può, come dire, accompagnare la propria mobilità portandosi in tasca il bando e leggendo mano a mano che la mobilità va avanti il pezzo che riguarda appunto la fase della mobilità. Perché? Perché in tutte le iniziative di mobilità c'è una fase intanto preliminare dove, come voi, ci si chiede voglio o non voglio andare all'estero, dove vado a fare che cosa. C'è una fase organizzativa, prendo i contatti, chiedo, chiedo ai miei professori di Bicocca, chiedo a un professore in un'altra istituzione, azienda, ONG, ONLUS, non lo so, all'estero, che sia disponibile a prendermi e questa ricerca sta in capo a voi perché voi sapete le attività di stage o di tirocinio che vi riguardano insieme con i vostri docenti. L'ufficio amministrativo non può gestire le richieste di oltre 30.000 studenti con le loro esigenze formative differenti. Quindi lasciamo in capo a voi insieme ai vostri docenti la definizione del progetto di mobilità e evidentemente anche della destinazione. C'è poi una fase legata alla partenza, dove una volta che avete chiaro dove andrete e a fare che cosa, deve partire una comunicazione formale con l'Ateneo per due grandi ordini e ragioni. La prima che è quella della copertura assicurativa, la seconda è quella dell'erogazione della borsa di studio, quindi l'accreditamento della borsa di studio. C'è poi una fase di quando siete all'estero, anche questo il bando va a normare e leggendo ci sono delle parti dedicate. Un momento all'estero può avere tutta una serie di situazioni, potrebbe esserci la necessità di un prolungamento, ci potrebbe essere la necessità di un rientro, ci potrebbe essere la necessità di tante cose, quindi leggete quella parte di capitoletti del bando dedicati al durante la mobilità. E poi c'è una fase di chiusura, dove comunicate con l'università che finite e rientrate e anche questo è legato alle due componenti macro del processo che sono la copertura assicurativa, quindi sapere che in quel momento lo studente Milano Bicocca, la studentessa Milano Bicocca è rientrata in sede e possiamo procedere con il conguaglio della borsa di studio, quindi con il versamento dell'ultimissimo pezzetto di borsa di studio e anche questo poi andremo a dettagliarlo. Quindi avete in mano uno strumento che è il bando di mobilità, si compone di tante pagine, iniziate a leggerlo e mano a mano leggerete i sotto articoli, i capitoletti, chiamiamoli così, che riguardano appunto la mobilità mano a mano che siete all'estero. Giusto per informazione, quanti di voi hanno già fatto una mobilità che sia Erasmus, che sia... lo potevate dirmelo che è più sintetico, nel senso che tutte queste cose in teoria le avete già sentite anche per gli altri programmi di mobilità. La comunicazione efficace e anche vorrei dire l'utilizzo coerente delle mail ci garantiscono a noi di lavorare meglio e a voi di ricevere effettivamente tutte le informazioni in tempo relativamente breve e i pagamenti della borsa di mobilità in tempi assolutamente ragionevoli. Perché il passaggio di informazioni deve essere efficace? Anche da parte vostra impegnandovi a scrivere esattamente alle mail d'ufficio. Abbiamo creato delle mail dedicate di modo che uno studente che va in mobilità traineeship ha una mail di riferimento, lo studente che va in mobilità extra web ha un'altra mail di riferimento. Scrivere a entrambe le mail non è una grande idea, perché alla fine va a congestionare inutilmente il sistema. Le persone che le leggono sono sempre quelle, non è che se scriviamo la medesima mail a cinque indirizzi diversi otterremo una risposta più celere, piuttosto andiamo ad aggravare il processo, visto che abbiamo veramente ogni giorno centinaia e centinaia di mail in arrivo. Noi cerchiamo di rispondere il più rapidamente possibile, alle volte rimaniamo stupiti anche noi che talune domande delle mail non sono altro che, cioè la risposta per talune domande delle vostre mail non è altro che il riportare magari la prima riga del bando o la seconda riga del bando, quindi anche lì leggete la documentazione prima di fare delle domande, perché poi, ripeto, può essere che tante cose sicuramente sono già esplicitate all'interno del testo. Grandi novità quest'anno, veramente voi siete un'annata fortunata, trovate qui il primo bando tra i niscipi, il primo bando extra UE, perché la novità dell'anno accademico 18-19 è che avremo due turni di selezione su entrambi i bandi. Quindi abbiamo il cosiddetto turno estivo, non sapevo come chiamarlo, ma insomma ci capiamo, che è quello che esce adesso. Entro il 10 giugno voi troverete pubblicato sul sito il bando sia tra i niscipi che exchange extra UE. Avrete poi un secondo turno invernale che sarà pubblicato al 10 di febbraio. Lo dico allora per entrambi i bandi, tenete conto che se ad oggi non avete ancora individuato o contattato una destinazione estera, sarà molto difficile che riusciate a presentare la candidatura in questo bando. Quindi l'idea dell'offerta di due bandi di mobilità, di due turni di mobilità per il medesimo bando, vuole favorire anche coloro che non abbiano già iniziato ad attivare appunto i contatti con l'università di destinazione. Potrebbe anche darsi il caso di qualcuno di voi che ha già negoziato con l'istituzione estera di destinazione un determinato periodo, magari, non lo so, a giugno, luglio, agosto, settembre del 2019, potete già iniziare a partecipare al bando adesso, oppure aspettare il turno di febbraio 2019. Che cosa vi racconterò il più rapidamente possibile? Quali saranno le mete e che cosa si può fare all'estero? Quali sono le attività? Chi partecipa ai bandi? Qual è la copertura finanziaria? Quali sono i tempi della mobilità? Quindi, dove vado? Quale è il bando che scelgo? No, ho sempre sbagliato, bellissimo. Ah, va bene. Quale bando scelgo dipende dalla destinazione che ti accetta, che ti accoglie per svolgere un periodo di stage barra tirocinio. Quindi, se vado in Francia, scelgo Erasmus traineeship. Se vado in Norvegia, scelgo Erasmus traineeship. Se vado in Grecia, scelgo Erasmus traineeship. Tutti i paesi che aderiscono al programma Erasmus. Se vado negli Stati Uniti, scelgo Exchange Extra Way. Se vado in Giappone, scelgo Extra Way. Se vado in Cina, scelgo Extra Way. Se vado in Svizzera, scelgo Extra Way. Perché la Svizzera, appunto, non aderisce al programma Erasmus. Quindi, che cosa fa la differenza fra i due bandi? Che Erasmus traineeship ricomprende i paesi che, appunto, partecipano a pieno titolo al programma Erasmus. E poi li vedremo. Tutti gli altri, tutti gli altri, indipendentemente dalla connotazione geografica, cioè la Svizzera, ci abbiamo qua dietro l'angolo, tutti gli altri paesi che non fanno parte di quelli che poi vi elencheremo a breve, sono Extra Way. Perché nella logica di questa università non si vuole escludere nessun tipo di flusso e nessuna destinazione. Quindi è pensato, appunto, con la massima apertura per la vostra partecipazione, per darvi la possibilità di fare un'esperienza all'estero. Fai te il click perché... Ecco. Che cosa posso fare all'estero? Con questi due bandi posso fare uno stage, un tirocinio, un tirocinio pratico, posso andare in un ospedale, posso fare attività di ricerca in un laboratorio. Attenzione, tutte le attività devono comportare il riconoscimento di crediti formativi. Saranno i crediti formativi legati alla tesi, saranno i crediti formativi legati allo stage, saranno i crediti formativi legati al tirocinio. Ovviamente noi qui parliamo in maniera ampia e generale perché questo deve riguardare tutti i corsi di studio di Milano Bicocca. Ciascuno di voi riporterà l'attività rispetto al proprio corso di studio. Cosa succede per i dottorandi o gli specializzandi? Per loro chiediamo almeno tre mesi continuativi all'estero. C'è qualche dottorando specializzando qui? Due. Ecco, quindi allora tutte le volte vi dirò anche la vostra specifica. Quindi è richiesto un periodo di permanenza di un certo tipo all'estero, anche perché questa università ha ragionato che per fare appunto dell'attività di ricerca le mobilità hanno più senso in maniera continuativa piuttosto che in una maniera molto breve e forse poco rispondente rispetto alle vostre esigenze. prossima. C'è una specifica per quanto riguarda determinate destinazioni extra UE, in particolare quelle che hanno firmato con università determinati accordi di cooperazione internazionale. Qua faccio riferimento nello specifico alle Maldive, dove sarà possibile anche superare degli esami, ma perché sapete che con l'università delle Maldive abbiamo una convenzione, addirittura un titolo congiunto di studio. Stessa cosa vale per talune destinazioni in Cina o in Giappone legate con il corso di formazione di scienze della comunicazione, la quale appunto ha attivato una convenzione specifica per darvi la possibilità di fare degli esami di cinese o di giapponese nelle università convenzionate, piuttosto che la Svizzera, anche in Svizzera è possibile fare esami in virtù di convenzioni, di accordi nell'ambito dello Swiss European Mobility Programme, che è appunto un programma diverso dall'Erasmus, ma comunque che è stato messo in piedi con la Svizzera. Quindi queste sono un po' attività in più che potete fare con l'exchange extra UE, sempre tenendo presente che queste tipologie di programma per lo più riguardano attività di stage e tirocinio. Prossimo. Per quanto riguarda l'Erasmus traineeship, fatemi dare una precisazione riguardo alla possibilità di fare il lavoro di tesi in traineeship. Il programma comunitario dice che le attività di ricerca che di solito sono finalizzate alla stesura della tesi sono ammissibili ma nel momento in cui costituiscono formazione professionale. Quindi nel Learn Agreement for traineeship avrete cura di esplicitare la formazione professionale che sarà legata alla vostra attività all'estero. Sicuramente lo sappiamo che la formazione professionale avrà poi un risultato che sarà, non so, mezzo capitolo della tesi, la bibliografia della tesi ovviamente. Quindi le attività che voi fate all'interno dell'università di qualsiasi tipo sono tutte finalizzate alla vostra laurea, quindi al vostro obiettivo finale che è appunto quello di laurearvi. Prossima. Dove si può andare? Ecco qui manteniamo lo spettro più ampio possibile di destinazioni, quindi organizzazioni pubbliche, private, istituti di istruzione superiore, i centri di ricerca, le ONG. Ognuno di voi in base al proprio corso di studio, ovviamente in accordo con i vostri docenti, troverete l'istituzione e la destinazione più coerente e più corretta per il vostro progetto di stage. Non sono ammesse questo specificatamente per l'Erasmus Traineeship le istituzioni UE o le agenzie specializzate, così come le organizzazioni che gestiscono i programmi dell'Unione Europea. Questa è proprio una regola dell'Erasmus Traineeship. Tutte queste regole poi ripeto le trovate scritte all'interno dei bandi, quindi oggi facciamo un po' l'esercizio di leggere insieme quelli che sono i contenuti appunto dei bandi. Chi può partecipare? Tutti gli studenti di Milano Bicocca, tutti gli studenti in corso di Milano Bicocca, di tutti i livelli senza escludere nessuno, quindi sia delle triennali dove trovate citato primo livello leggete laurea triennale, secondo livello si legge laurea magistrale o ciclo unico, terzo livello leggete dottorandi barra specializzandi, quindi tutti gli studenti che sono in corso possono partecipare ai bandi, perché in corso? Perché appunto dicevamo la mobilità deve dare diritto a crediti formativi e deve avere un riconoscimento di crediti in piano, se li avete già finiti tutti i crediti non sappiamo cosa fare, nel senso che è importante che questa mobilità sia riconosciuta all'interno del vostro percorso formativo. Dimenticavo, anche queste mobilità saranno poi certificate e riportate nell'open badge, che è questo strumento elettronico che può essere utilizzato appunto nei rimandi sui vostri social, eccetera, e che riporta esattamente il periodo all'estero e l'attività che è stata svolta all'estero. Poi, i laureandi, io mi laureo, posso fare il programma di mobilità solo l'Erasmus traineeship, quindi i laureandi possono fare solo l'Erasmus traineeship, ma a condizione che presentino la candidatura prima della discussione della tesi. Quindi, io mi laureo a novembre, posso fare il traineeship di giugno? Sì, perché non ti sei ancora laureato. Io mi laureo a gennaio, posso fare il traineeship del 10 di febbraio? No, perché ti sei già laureato. Quindi, ma io mi laureo a gennaio, posso fare il traineeship del 10 di giugno? Sì, puoi farlo. E poi potrai svolgere il traineeship o interamente prima della laurea o interamente dopo della laurea, non a metà. Quindi non è ammissibile fare, lo so, due mesi, tornare, mi laureo veloce, veloce e ritorno all'estero. No, il traineeship si concluderà o tutto prima della discussione della tesi o tutto dopo la discussione della tesi, quindi la sessione di laurea. Copertura finanziaria, anche questo l'abbiamo pensato appunto per agevolare gli studenti in accordo con le rappresentanze studentesche, con gli organi di governo, eroghiamo l'anticipo prima della partenza, ovviamente previo rispetto delle regole. Se voi seguite le tempistiche che troverete specificate all'interno del bando, vedrete che la borsa ce l'avrete accreditata sulla vostra carta multifunzione. Abbiamo lavorato per darvi la maggior parte della borsa prima di partire e poi il saldo a rientro. Specifico una cosa, perché alle volte poi non ci troviamo d'accordo. Noi qui ragioniamo in termini di borsa mensile. In realtà l'ente finanziatore, sia il Fondo Giovani, il Ministero che l'Agenzia Nazionale, quindi la Commissione Europea, parlano di giorni effettivamente trascorsi all'estero. Quindi ci sarà un momento alla chiusura del periodo dove noi andremo a saldare, ma in base ai giorni effettivamente trascorsi all'estero. La borsa di mobilità internazionale è contata sui giorni, non sul mese. Quindi il ragionamento dell'ente finanziatore è che la borsa è dovuta per le giornate effettivamente svolte all'estero. Nei casi di stage, peraltro, di attività professionale, è evidente che ci sarà anche un legame di natura lavorativa con l'ente che vi ospita e quindi un impegno a dover essere, esserci all'estero in maniera assolutamente continuativa. Qual è la borsa di studio? Ecco qua è la slide, forse sono un po' piccole le parole, ma poi le slide le mettiamo a disposizione anche sul sito. Qui vedete, peraltro, i paesi che noi consideriamo come Europa, perché a tutti gli effetti partecipano al programma Erasmus. Quindi Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Liechtenstein, Norvegia, Svezia, Regno Unito, Austria, Belgio, Francia, Cipro, Germania, Grecia, eccetera, eccetera, eccetera. Non li leggiamo tutti, poi, ripeto, li trovate elencati. Perché sono riportati in fascia? Perché la Commissione europea ha stabilito un importo diverso, anche qui parametrato sul mese, ma in realtà poi a livello del pagamento si entrerà nel merito dei giorni effettivamente trascorsi all'estero. Immaginando che i primi paesi che ho citato, che fanno parte della prima fascia, hanno diritto a una borsa comunitaria pari a 400 euro mensili. Gli altri paesi la borsa è di 350 euro mensili. A questa borsa comunitaria, quindi stiamo parlando di Erasmus Traineeship e di finanziamento della Commissione europea, si aggiunge un'integrazione di Ateneo. Solo gli studenti laureati, torna indietro, hanno diritto solo ed esclusivamente alla borsa comunitaria. Perché i fondi che abbiamo a disposizione come Ateneo e che ci arrivano appunto da altre istituzioni, sono previsti per la spesa degli studenti e non più dei laureati, che in quel momento chiudono il loro rapporto con l'Università di Milano Bicocca. Quindi i laureati, quelli che decidono di fare il periodo di Traineeship dopo la laurea, quindi hanno partecipato prima di laurearsi e poi partono dopo la laurea, riceveranno solo la borsa UE. Se invece lo fanno prima della laurea, riceveranno la borsa UE più il cofinanziamento di Ateneo, prossima slide, che è erogato ai sensi delle indicazioni del Ministero in base alle fasce ISEE, quindi alle fasce di reddito. Anche qui, attenzione, vogliate seguire le tempistiche dell'Università per presentare in maniera puntuale e corretta l'ISEE di riferimento, perché poi sarà quello che determinerà il valore del vostro contributo integrativo, qui parliamo mensile, in realtà è sempre parametrato sul numero di giorni effettivamente trascorsi all'estero. Poi vedete i valori che vanno da un massimo di 400 euro, un minimo di 200, come borsa integrativa. Anche questo l'Università ha lavorato di modo che, se voi vi ricordate, fino all'anno scorso la borsa integrativa di Ateneo era di 200 euro per tutti gli studenti. Qui vedete che abbiamo voluto integrare la borsa con un importo che comunque ci sembrava, e sembrava gli ordini di governo, più ragionevole. Tenete conto che è evidente che questo sarà un contributo alla mobilità, perché può essere, cioè le famiglie o voi stessi dovrete intervenire per coprire tutti i costi, però è già un bel contributo, perché chi va nei paesi di fascia A, quindi non so, in Islanda, 800 euro al mese, insomma, può essere una buona borsa di studio. Poi considerate che le istituzioni che accolgono potrebbero prevedere determinate agevolazioni anche per gli studenti, quindi comunque questo è un buon contributo. Questo contributo è aggiuntivo, qua parlo per gli studenti di dottorato, rispetto alla loro borsa di dottorato e alla maggiorazione di cui hanno diritto per recarsi all'estero, quindi questo per loro è una integrazione a tutti gli effetti che non va a togliere le borse di cui dispongono già. Prossima slide. Ecco, qui abbiamo voluto mettere nel bando, poi lo troverete scritto e ritroverete questa tabellina, magari con colori diversi, ma la tabellina è sempre quella, con la simulazione dell'anticipo della borsa, perché ci sembrava importante dirvi subito quale sarà l'anticipo che l'Ateneo eroga nel momento in cui siete giudicati idonei al ricevimento della borsa di studio e ci comunicate la data di partenza. Abbiamo immaginato ovviamente qui per il traineeship le durate di due mesi, di tre mesi, di quattro mesi, all'interno del bando poi ci saranno anche le specifiche per le durate più lunghe della mobilità traineeship e con gli importi suddivisi a seconda del paese di destinazione, perché abbiamo detto che l'Erasmus traineeship ragiona suddividendo i paesi europei in sostanzialmente due macro fasce, perché la fascia 2 e 3 ha lo stesso importo e quindi insomma, anche se facciamo la distinzione poi a livello economico, non cambia assolutamente niente. Quindi non lo so, se io so di avere un ISE fino a 21 mila euro e so che farò un traineeship di tre mesi, so che l'Ateneo mi verserà 1.500 euro subito, prima di partire, e poi mi verserà il saldo, ma il saldo non ve lo diciamo perché, non perché non lo sappiamo, ma perché corrisponde al conguaglio sulla base dei giorni effettivamente trascorsi all'estero, perché magari questa persona, io, faccio tre mesi e dieci giorni, quindi non riceverò il corrispettivo di un mese intero, ma riceverò il corrispettivo dei dieci giorni. Ovviamente il conguaglio si può fare a bocce ferme, quindi quando siete rientrati dalla mobilità e abbiamo la certificazione da parte della destinazione straniera del periodo effettivamente trascorso all'estero. Prossima. La copertura finanziaria per l'extra-UE anche qui ragiona in termini di fasce ISE, anche qui abbiamo voluto, proprio in considerazione del fatto che chi si reca in una destinazione extra-UE va un pochino più lontano, si è ragionato in termini peraltro di continuità rispetto a quello che è stato operato negli anni accademici precedenti e quindi la borsa per chi ha una fascia ISE fino a 30.000 euro sarà di 600 euro mensili e invece per chi è oltre i 30.000 euro la borsa mensile corrisponde a 350 euro. prossima. Anche qui abbiamo una piccola simulazione riguardo agli anticipi e ai saldi. Qui vedete degli importi più piccoli, ma il ragionamento sulle durate l'abbiamo fatto facendo un'indagine rispetto ai numeri della mobilità di Milano Bicocca e alle durate effettive nell'ambito dei singoli programmi. Quindi, per esempio, sull'extra-UE la durata media degli studenti è sostanzialmente di due mesi. La stragrande maggioranza non sta all'estero più di due mesi, due mesi e pochi giorni. Abbiamo però anche eccezioni di studenti che si fermano di più, ma nessun problema. Lo studente che pensa di fermarsi di più ovviamente sarà autorizzato a farlo, quindi lo negozierà sia con la destinazione, quindi chi vi ospita, sia con i docenti di Milano Bicocca e poi al conguaglio vi erogheremo anche la differenza di borsa in termini dei giorni in più che vi siete fermati rispetto a quello che avevate dichiarato all'inizio. Quindi nessun problema ad aumentare e a prolungare il periodo all'estero. Prossimo giro, tempi della mobilità. Allora, il bando traineeship prevede minimo due mesi all'estero, minimo. L'extra-UE minimo un mese, immaginando appunto i 30 giorni. L'ultima data di rientro per il traineeship deve essere il 30 settembre 2019. Voi potete fare la candidatura adesso programmando appunto lungo tutto l'arco del 2018-19 il vostro periodo traineeship all'estero. Per l'extra-UE abbiamo invece una data legata alle rendicontazioni del Ministero e dell'Università, quindi all'anno solare, quindi la vostra data di rientro dovrà essere il 30 di novembre 2019. Queste sono le regole generali riguardo appunto ai due bandi. Ah, si abbiamo messo anche un massimale, 12 mesi per il bando traineeship, 6 mesi per il bando extra-UE. Mobilità che deve essere continuativa. La logica di uno che fa lo stage è che comunque all'interno di una istituzione dove mi impegno a fare delle attività lavorative, devo comunque garantire una presenza costante. La stessa cosa all'interno di un laboratorio di ricerca. Non è che iniziate un'attività di ricerca su una serie di vetrini e poi scomparite. Uno deve garantire, come dire, la costanza nella propria presenza all'interno dell'istituzione che ospita. Tempi della mobilità, questo va precisato, dicevo, il calcolo viene fatto sui giorni effettivamente trascorsi all'estero. L'indicazione che riceviamo dalla Commissione europea è che il mese, quindi gli importi che abbiamo citato prima, lo si considera sempre di 30 giorni. Ovviamente se uno sta a 3 mesi e 10 giorni, quei 10 giorni saranno l'importo suddiviso per 30 e moltiplicato per 10, molto banalmente. Cosa non si può fare durante la mobilità? Non ci si può trasferire da un corso di studio all'altro. Vi dico anche la motivazione, perché queste regole nascono dal voler riconoscere pienamente in carriera il vostro periodo di mobilità all'estero. Se io cambio, mi trasferisco da un corso all'altro, può essere che il progetto che sto svolgendo non sia più coerente rispetto al mio percorso formativo. Quindi quando sei all'estero, parti nell'ambito di un corso di studio e rimani all'interno di quel corso di studio. I trasferimenti e i passaggi li fate a conclusione del vostro periodo di mobilità all'estero. Non ci si può laureare perché li decade il rapporto fra l'università e voi, che non sarete più considerati come studenti dell'università, ma appunto come laureati. Quindi durante la mobilità non ci si può laureare. Non si può neanche, come dire, essere all'estero ma fare anche delle attività in bicocca. Quindi non è che posso rientrare in Ateneo e seguire dei corsi o svolgere altre attività in bicocca. Sono all'estero per stare all'estero, a maggior ragione che appunto la borsa di studio vi è dovuta per i giorni effettivamente trascorsi all'estero, non in bicocca. Ma grande novità di quest'anno, che tiene conto delle esigenze e delle richieste proprio arrivate dagli studenti, vi diamo la possibilità di sostenere esami in bicocca. Ovviamente la presenza in università sarà limitata al periodo strettamente collegato con il sostenimento, il superamento di un esame. E in ogni caso lo dovrete anche comunicare e chiarire anche con la destinazione estera nella quale state facendo lo stage. Però se vi rimango, io sono una studentessa del secondo anno della magistrale, ma mi rimane indietro quell'esame del primo anno che non sono riuscita a dare in tempo, quindi parto per la mobilità, dicendolo alla destinazione estera, guardi che io ritorno alla bicocca per fare l'esame di fisica 1, adesso un esempio, quindi vabbè starò via quello che mi serve per fare l'esame, bene, quindi tu puoi venire in bicocca, fare l'esame e poi ovviamente ritornare all'estero. Chiariamo che l'interruzione, come dicevo, deve essere autorizzata in qualche maniera o comunque l'organizzazione ricevente, l'organizzazione estera deve essere consapevole che venne andate via per i giorni dell'esame, ok? Quindi questo dovrà essere comunque registrato all'interno dell'earn agreement. La prenotazione poi ad ogni appello, anche parziale, comporta la riduzione automatica di tre giorni di borsa di studio, immaginando un giorno di viaggio, un giorno di esame, un giorno di rientro all'estero. La riduzione si applica comunque per qualsiasi prenotazione, anche per appelli fissati in giornate consecutive, a prescindere dall'esito dell'appello. Come faccio? Poi decido più di non venire, perché io mi sono iscritta all'appello, poi scopro che non riesco a studiare tutto il materiale previsto per quell'esame. Bene, allora cancelli la prenotazione all'appello. Quindi ricordatevi, se poi vi iscrivete all'esame di fisica 1 e dopo, non so, una settimana prima vi rendete conto che non riuscite a preparare tutti i libri e tutto il materiale, allora vi cancellate dalla prenotazione, perché se rimane invece attiva la prenotazione vi viene decurtata comunque la borsa. Primo bando, basta. Ok, allora no, non tolgo, così cambiamo anche la voce, passo la parola a Federica Oliveri. Allora, buongiorno a tutti. Entriamo un attimo nello specifico del bando. Non vi tedierò perché il bando lo dovete leggere, vi do solamente qualche direttiva, magari anche qualche notizia stupida, che può sembrare stupida, ma che poi molto spesso ritroviamo nelle mail che ci scrivete. Allora, innanzitutto guarderemo le scadenze del bando, vabbè, le abbiamo già detto la dottoressa Koffler, ve le ridico velocemente. Allora, i bandi usciranno entro il 10 giugno. Cosa significa entro? Significa che i bandi in questo momento sono al vaglio del rettore, e il prorettori, che le stanno firmando. Quindi, non appena acquisiamo la firma, pubblicheremo sul sito e aggiorneremo anche il sito. In questo momento il sito ha già pubblicato i moduli che vi servono per candidarvi, ma non tutte le informazioni precise, perché appunto stiamo aspettando l'ultima versione del bando, che comunque arriva a fine di questa settimana. Anche perché da lunedì potete iscrivervi. Da lunedì 11, accederete alle segreterie online, non sto qui a rispiegarvelo perché fate tutto attraverso le segreterie online, nel menu di sinistra, bandi di mobilità, andrete a cercare il bando o il primo bando Erasmus Trenyship o il primo bando Extra Way. Avrete tempo per la compilazione fino al primo di luglio. Quest'anno la selezione avverrà in maniera automatica, quindi una volta che voi presenterete la candidatura e stamperete la ricevuta, la domanda è presentata. Devono essere allegati i documenti che vedremo tra poco. Se questi documenti non sono allegati, la domanda si elimina in automatico. L'unico controllo che verrà fatto, controllo di forma, prima della selezione è la firma dei moduli. Se i moduli sono non firmati, illeggibili o non rispecchiano quello che è richiesto nel bando, il bando su questa cosa è molto precisa, vengono eliminati dalla graduatoria. Quindi non c'è MA, IOS, no, vengono stracciati dal sistema. I risultati li avrete entro il 20 di luglio, anche qui entro il 20 di luglio, il che significa che se è tutto a posto, se i controlli amministrativi vengono fatti in maniera agevole e sciolta, avete tutti la documentazione apposta, appena possiamo, si pubblicano i risultati. Una volta pubblicato il risultato, per ottenere la borsa, come diceva la dottoressa Coffler, prima della vostra partenza, dovrete dichiarare sempre alle segreterie studenti, dove vedrete che siete idonei alla mobilità, dovrete dichiarare le date di partenza. Chi parte entro il 31 dicembre dovrà dichiararla entro il primo di agosto, chi parte dopo il 31 dicembre, quindi dal primo di gennaio, ce li deve dichiarare entro il primo di dicembre. Queste lo sappiamo che sono tempistiche molto strette per definire delle date precise. Chiediamo comunque lo sforzo, in quanto altrimenti non ci sarebbero i tempi tecnici per assegnarvi la borsa. Se posso interromperti su questo punto, se io so che parto il primo di settembre, non so, se io so che parto anche il primo di settembre adesso, non aspetto il primo di agosto, lo comunico già subito, nel momento in cui sarete abilitati, quindi dichiarati idonei per la mobilità, potete già caricare le informazioni relative alla vostra partenza, non aspettate l'ultimo giorno. Preciso un'altra cosa. Potrete dichiarare, le date possono essere modificate entro il primo di agosto. Una volta che scatta il primo di agosto, le date che sono state indicate devono essere quelle, non possono essere più cambiate. Cosa serve per accedere al bando? Per accedere al bando lo servono due documenti. Il primo documento è il LAT, o per il traineeship, o il AECS per l'extra-UE. Sono acronimi per l'euro in agreement for traineeship e l'euro in agreement for exchange student. Chi di voi è stato in Erasmus già sa che sono due documenti in cui si va a inserire quello che voi farete all'estero. Per quanto riguarda sia traineeship che è extra-UE, sono dei veri e propri contrattini. Aspettate un attimo che siamo andati. Ok, partiamo da questo un attimo. Ho riportato alcune pagine dei learning agreement e dei likes. Si assomigliano, sono quasi intercambiabili. C'è qualche piccola differenza e basta. Questi due documenti sono documenti molto lunghi, nel senso che poi, quando li avrete in mano, sono documenti di dieci pagine che vi accompagnano da adesso fino alla chiusura della vostra candidatura. in quanto c'è un before the mobility, un during the mobility e un after the mobility. Noi adesso ci concentriamo sulla prima parte, sul before the mobility, che è quella che serve per candidarsi appunto. Le altre due parti, vedrete anche che nel bando è specificato, vanno compilate durante la mobilità. Logicamente, se non modificate nulla della mobilità, non l'allungate, non l'accorciate, il during the mobility non viene compilato. Mentre l'after the mobility, che riporta anche il report della vostra attività all'estero, quello deve essere compilato. Il documento integrale in tutte le sue parti deve viaggiare sempre assieme. Non importa se voi alla fine non avete fatto il during, non importa, lasciatelo dentro, non compilatelo, ma lasciatelo dentro. Il documento deve viaggiare integro. Questa è la prima pagina. Sono appunto sciocchezze, ma le ripetiamo lo stesso. Nome, cognome, nazionalità, questo non c'è bisogno di spiegarlo. Il ciclo di studi. Ve lo ricordo un'altra volta, il ciclo di studi per le lauree triennali, primo livello, quindi potete segnare semplicemente primo livello. le lauree magistrali a ciclo unico oppure le lauree magistrali è secondo livello, dottoranti e scuole di specializzazione terzo livello. Altra cosa che chiede qui, che crea un po' di confusione quando lo dovete compilare, è il campo di educazione. Questo che vi sta chiedendo è il codice ISCED. Chi è andato in Erasmus l'ha già più o meno incontrato. Il codice ISCED è una classificazione fatta dall'UNESCO, quindi a livello mondiale, su tutte le materie di insegnamento. Per facilitarvi, abbiamo messo un link che è presente nelle note del LAT, in cui troverete, basta che digitate dentro la vostra area di appartenenza, vedrete che vi restituisce un codice. È abbastanza intuitivo. Sempre nella prima pagina la sending institution. Una sola cosa da dire, la persona di contatto da inserire qui è il vostro coordinatore Erasmus, il vostro coordinatore alla mobilità. Non è l'ufficio, non è il vostro tutor di laurea, no, è il coordinatore alla mobilità. Sul sito c'è tutta una lista appena aggiornata di ben 89 coordinatori alla mobilità. Avete di tutti i gusti da scegliere, ci sono tutti. L'ultimo pezzo della paginina. Allora, naturalmente, per chi va in un'azienda, non inserisce il codice Erasmus e non inserisce il dipartimento. Per chi di voi va in un laboratorio di un ateneo, sì, queste cose vanno inserite. codice Erasmus logicamente solo per chi va in Europa, per chi fa l'extra UE, il codice Erasmus al momento non c'è. Al momento. L'indirizzo, ci serve un indirizzo completo anche con il sito web, questo perché lo inseriamo nella nostra banca dati e dobbiamo anche a campione controllare queste destinazioni. La responsabilità delle destinazioni sono dei vostri coordinatori che, aiutandovi a scegliere o comunque se voi proponete una meta, il coordinatore vi dice no, questa sì, questa no, questa sì, questa no, loro già una prima autorizzazione ve la danno nel senso. Ecco, fate attenzione, scrivete qui il più possibile. Le altre due persone di riferimento da inserire. Allora, il contact person è il coordinatore Erasmus dall'altra parte se andate in un ateneo o comunque è la persona che firma questo documento. C'è un'altra persona che è il mentor, il tutor che eventualmente è la persona che poi vi segue in prima persona. Può anche essere la stessa persona, nel senso, può anche essere che chi vi firma questo documento sia anche la persona che vi segue in prima persona. Va bene, riportate o lasciate vuoto o riportate entrambe nella stessa casella. Seconda pagina, niente da specificare tranne che se andate presso un'azienda, un ente, un ateneo che ha diverse sedi, dovete specificare esattamente qui presso quale sede voi andate. Ad esempio, voi state andando all'università di Lund, presso un laboratorio di un dipartimento, questo, noi qui vogliamo i riferimenti specifici del dipartimento. se voi andate presso un'azienda multinazionale che in un paese estero ha 10.000 sedi, qui vogliamo esattamente dove voi state andando. Questa è la parte che dovete curare per la presentazione alla candidatura. Innanzitutto dovete inserire mese, giorno e anno della partenza, questo perché bisogna per il calcolo della borsa, se voi scrivete solamente mese e anno della partenza, noi non sappiamo se voi partite ad esempio marzo o luglio, non sappiamo se partite al primo di marzo, al tre di marzo o al venti di marzo, il conto della borsa è molto differente, siccome dobbiamo comunque fare un budget per le vostre borse, qui bisogna essere il più precisi possibili. Il numero delle ore per settimana, anche qui deve essere un numero congruo, non se utilizzate il trainship e al vostro ritorno usate la vostra esperienza per scrivere la tesi, è chiaro quindi i termini di CFU che vi verranno riconosciuti saranno congrui, non mettete qui dieci ore settimanali, non è non regge, non è non è fattibile, quindi devono essere un'esperienza lavorativa, quindi deve avere un certo peso in termini di ore. Il titolo del trainship non è necessario o meglio non createvi del fantastico trainship presso Orzo Bimbo Nestlé, non è necessario, va benissimo va benissimo trainship presso, non inventate cose non state impazzire su questa cosa, invece state impazzire sulla prossima cosa, una descrizione dell'attività lavorativa che verrà svolta, quindi qui sì che dovete metterci un attimo di testa, sono un minimo mille caratteri, nel senso che deve essere comunque compilato, dovete compilarlo voi, non deve compilarlo la vostra destinazione o il vostro coordinatore, possono aiutarvi sicuramente sì, perché se la destinazione voi scrivetela qualunque cosa e la destinazione dice no, io ho te a prenderti a farti questa cosa, non te la faccio fare, deve essere un po' contrattata, deve essere un attimo specificata, una cosa, mai, mai, mai inserire, fate riferimento alla tesi, in quanto, come abbiamo già detto, lo sappiamo che parecchi di voi utilizzano il lavoro che fate nel Trensci per poi scrivere una tesi, questo lo sappiamo e anche giusto, perché le tesi comunque sperimentali, adesso faccio un esempio stupido, biotecnologie, piuttosto tutti coloro che vanno presso dei laboratori, quel lavoro può rientrare a posteriori nella vostra tesi, ma è sempre, bisogna sempre ricordarsi che il Trenship è prima della tesi, la tesi deve prevenire dal Trenship, quindi questo sembra una cosa stupida, ma siccome l'Unione Europea su queste cose è molto specifica, anche proprio a livello di finanziamenti, fa dei controlli, quindi laddove mi trovo scritto ad esempio vado all'Università di Cambridge, mi chiudo in una biblioteca e studio 24 ore al giorno, quello non è un Trenship, quello non è Trenship, quindi pensateci un attimo, naturalmente è in lingua, questa non è in italiano, se andate per la maggior parte suppongo che sarà in inglese. Il monitoring plan, il monitoring plan che cos'è? è la modalità con le quali verrà monitorato il vostro Trenship, sembrano e quello dopo sembrano identici, ma non lo sono, uno è la modalità con cui verrete monitorati, l'altro è in base a quali criteri, è quasi simile, dovete porci un attimo di attenzione, andando avanti troverete anche sempre nella stessa pagina, in fondo piccolo piccolo nessuno lo vede mai e poi dobbiamo rincorvervi per farlo compilare la dichiarazione del livello della vostra lingua, della lingua scusate che userete nel luogo del vostro Trenship, non vi stiamo chiedendo di allegare un certificato B1 B1000 no, è una valutazione anche autovalutazione fatta anche col vostro coordinatore se volete del vostro livello questa mi raccomando compilatela anche perché in base a questa e parlo per i Trenship avrete l'assegnazione del corso OLS dell'Unione Europea il corso OLS dell'Unione Europea è obbligatorio va fatto consiste in tre parti un test di assestamento scusatemi un test di valutazione il corso vero e proprio e la verifica finale è obbligatorio va fatto attenzione a non inserire qui ad esempio vado in Spagna inserisco spagnolo però vado in una dita multinazionale parlo inglese qui dovete mettere inglese quest'altra tabella è poneteci un attimo d'attenzione ma c'è da fare ben poco allora vedete che in alto a sinistra in ogni riquadro c'è un piccolo box dovete segnare semplicemente quello che si riferisce a voi allora nel primo riquadro chi dovrà segnare questo primo riquadro il primo riquadro è per coloro che hanno uno stage nel proprio percorso di studi nel regolamento c'è un codice sostanzialmente di solito per la maggior parte i terzi anni della triennale hanno il codice stage va inserito qua è questo il vostro caso tutti gli altri casi ad esempio appunto chi va a fare un intrencipe volontario e poi quando rientra lo utilizzerà per la scrittura della tesi è il secondo riquadro flegate il secondo riquadro in questo secondo riquadro entra anche chi non ha uno stage codificato nel proprio percorso di studio ma utilizza comunque questa esperienza va a fare questa esperienza al rientro il coordinatore riconoscerà l'esperienza di Trenship tra gli esami a scelta si può fare anche questo non è un esame con voto verrà riportato semplicemente vale come esame a scelta sarà una D non avrà scusate una P non avrà un voto però si può fare anche questo l'ultimo riquadro e qui parlo solamente per i laureandi che partiranno dopo la laurea devono flegare questo riquadro è solo in questo caso ripassando velocemente tutti oltre a flegare il box che si riferisce a voi l'unica cosa che dovete fare in questi riquadri è inserire i CFU senza l'inserimento dei CFU non c'è non solo il riconoscimento ma non siete ammessi alla candidatura non siete ammessi alla graduatoria perché la mobilità Trainship ed Extra UE è legata all'acquisizione di crediti senza di questi non venite ammessi tutto il resto tutto il resto che voi vedete già le caselline sono già tutte precompilate da noi non dovete toccare nulla vale per questo questa questa invece come dicevo prima è quella per chi non ha uno stage codificato stessa cosa dovete inserire semplicemente il numero di crediti le slide poi le pubblichiamo sul sito questo riquadro anche questo è l'ultimo di questa pagina anche questo lo guardate pochissimo è già precompilato non dovete non dovete in alcun modo compilarlo perché è già stato fatto tutto da noi riporta sostanzialmente le coperture assicurative che Bicocca vi offre ricordatevi una cosa che le coperture assicurative sono riportate tutte in chiaro nel bando quindi potete avere anche riferimenti e c'è anche l'email dell'ufficio che si occupa di queste cose che eventualmente avete bisogno vi rilascia una certificazione Bicocca copre gli infortuni nel luogo di Trenship e i danni a terzi faccio un caso vero un ragazzo ha rovesciato una Coca Cola su un acceleratore di particelle e era assicurato l'abbiamo piangendo l'abbiamo ripagato all'università estera uscite dall'università siete alla sera andate a bere qualcosa inciampate in un marciapiede vi rompete il dito del piede quello non è coperto ok scusate intervengo sul discorso della Coca Cola che effettivamente è successo allora io su questo vorrei dirvi anche che il vostro atteggiamento all'interno delle università o dei centri di ricerca piuttosto che delle istituzioni di accoglienza ovviamente detterà poi anche la decisione da parte della medesima istituzione estera di accettare o meno altri studenti successivi sempre provenienti dall'università di Milano Bicocca quindi quello che chiediamo ma sono consapevole che tutti voi siete perfettamente coscienti che non partite solo come persone autonome che decidono di fare una cosa appunto nella piena libertà e volontariamente ma partite come studenti di un'istituzione e che in quel momento rappresentate all'estero quindi per carità può succedere l'incidente cerchiamo però anche di stare attenti perché poi appunto questo è l'esempio quello un po' più comico che riportiamo talune altre volte in laboratori di ricerca qualcuno ha anche rischiato di far del male a se stesso agli altri perché semplicemente con superficialità ha gestito una serie di reagenti causando tutta una serie di cose che insomma cercheremo anche di evitare quindi massima professionalità anche in questo dimostrate la vostra appunto maturità nell'andare all'estero e nel cercare di essere più professionali possibile ok quindi queste sono le coperture che vi offre Bicocca talvolta ci capita che qualcuno ci chieda delle informazioni sull'assicurazione sanitaria assicurazione infortuna assicurazione sanitaria sono due cose differenti l'assicurazione sanitaria è quella che vi offre lo Stato italiano è la vecchia mutua per intenderci quindi quando qualsiasi italiano va all'estero deve estendere la copertura non è l'assicurazione sanitaria non è afferente a Bicocca è afferente al sistema sanitario nazionale quindi cosa devo fare allora per chi va in la comunità europea voi avete in mano il famoso tesserino il TEM del codice fiscale quello copre fino a tre mesi di soggiorno all'estero se il vostro train ship dura più di tre mesi dovete passare dalle ATS adesso si chiamano sono le che ASL di competenza territorialmente ognuno ha la sua dovete semplicemente dichiarare che andrete all'estero e vi daranno un certificato di estensione della copertura per chi invece va extra way chi va extra way è bene che si informi invece sempre alle ATS sulla copertura perché vi sono dei paesi con cui l'Italia ha degli accordi quindi non è necessario fare nient'altro ci sono dei paesi invece che questi accordi bilaterali non ci sono quindi il suggerimento è di fare un'assicurazione sanitaria privata al minima almeno ma di farla comunque potete informarvi sia sul sito del ministero che è molto aggiornato il link è nel bando o se no direttamente alle vostre ATS la pagina 5 nella pagina 5 questa questo riquadro è a opera della vostra meta di destinazione per voi anche qui vengono riportate le coperture assicurative quindi abbiate cura di farvelo compilare a tutela vostra questo è l'ultimo pezzo non stiamo qua neanche a spiegarlo sono le firme quali firme vanno messe allora le firme di bicocca deve essere messa dal coordinatore all'ambulità internazionale nel momento in cui il coordinatore non c'è il coordinatore è scappato non sappiamo dove si trovi è possibile fare firmare questo documento o dal presidente del corso di studio o dal direttore di dipartimento per quanto riguarda i dottorati può firmarlo il vostro tutor la invece come abbiamo detto prima la firma della destinazione estera è colui che è stato riportato in prima pagina quindi che può essere il vostro coordinatore alla mobilità se esiste presso la sede in cui andate oppure può essere il responsabile della destinazione ci capita spesso che chi va in azienda gli venga firmato dal responsabile ogni azienda estera un responsabile per gli stage va benissimo questa persona questo è il primo modulo quest'altro invece è il modulo di autorizzazione viaggia assieme all'att va compilato e inserito nella candidatura obbligatoriamente è molto semplice e intuitivo vale sia per il trainship che per l'exchange vedete che abbiamo inserito anche chi può firmarlo quindi i direttori dipartimento di scuola il tutto dei dottorandi specializzanti presidi dei corsi di studio questa è la prima parte con tutti i dati molto semplice questa è la parte interessante ed è per questo che la chiediamo adesso chiediamo sostanzialmente una prevalutazione della conversione di quello che voi andrete andrete a fare a garanzia vostra c'è capitato talvolta di vedere scritti dei numeri non diciamo a caso ma poco ponderati nel LAT noi qui chiediamo lo sforzo al coordinatore prima di dirvi esattamente guarda se tu fai questa cosa al ritorno ti verrà riconosciuta per questo per chi ha stagio e tirocini è molto semplice ok per chi attività scelta come ho detto prima si mette il numero di CFU dei crediti a scelta se andate a esaurirli e c'è anche la prevalutazione di una prova finale quindi questo ribadisco è a garanzia vostra logicamente per dottorandi e post laurea del Trenship non richiediamo questa cosa ma richiediamo due righe su quello che voi andate a fare proprio due righe il sunto del sunto del sunto di quello che avete scritto nel LAT niente questo va firmato dal responsabile stampato acquisito in formato pdf e inserito nella candidatura allora solo velocemente sapete tutti come fare una candidatura dove allora ci si candida alle segreterie studenti e questo l'abbiamo già detto allegate i due moduli o il LAT o il LAT a seconda del bando che fate in formato pdf a sul sito c'è un piccolo tutorial di come si trasforma un pdf in pdf a questo non perché siamo assolutamente vogliamo quello e mai più ma perché i pdf a danno garanzia di conservazione dei documenti tutti gli altri pdf non ce l'hanno quindi va bene a uno a mille però deve essere un pdf a idem per il modulo di autorizzazione alla mobilità allegato come ho detto prima stampata la ricevuta la vostra la vostra domanda è attiva non potete più cambiarla senza stampare la ricevuta la vostra domanda resta sospesa e venite esclusi direi che è tutto dico anche magari sembra una banalità ma anche noi ci stupiamo di ricevere le mail di qualcuno che dice io ho caricato la candidatura il modulo di autorizzazione e ho stampato la ricevuta va tutto bene ecco domanda ridondante una mail perdete tempo voi a scriverla noi a leggerla e a cestinarla perché è già evidente all'interno del sistema informatico che nel momento in cui tu hai ricevuto hai potuto stampare una ricevuta è evidente che l'amministrazione ha acquisito il tuo dato e lo lo prenderà in considerazione lo valuterà e deve farne quello che deve fare ok ah ecco dimenticavo un'altra cosa importantissima se qualcuno se qualche candidato avesse dei bisogni speciali delle problematiche non so di qualche handicap qualche difficoltà di qualsiasi genere natura prego segnalarlo per tempo perché peraltro almeno per quanto riguarda l'Erasmus tra i Niship ci saranno dei contributi aggiuntivi può essere che anche per l'Exchange extra UE si pensi a dei contributi aggiuntivi proprio per aiutare chi ha qualsiasi tipo o delle difficoltà comunque oggettive rispetto alla partecipazione noi abbiamo detto ecco qua c'è la schermata con i punti di riferimento quindi le mail se io so di fare Erasmus tra i Niship scrivo a erasmus punto tra i Niship non scrivo a erasmus punto ma anche tanto per aggiungere anche outgoing punto extra UE perché non è il massimo dell'efficacia ecco quando scrivete le stesse mail a più indirizzi diversi per chiedere cose poi legate al vostro bando allora adesso facciamo partire chi ha bisogno di chiedere delle informazioni ripeto le slide le faremo trovare sul sito abbiamo registrato questa presentazione così potete andare a risentirla tranquillamente anche in una fase successiva però se ci sono delle domande ci sono le colleghe che girano con i microfoni semplicemente perché così riusciamo a registrare anche le domande e la successiva risposta visto che c'è appunto la registrazione qualcuno che vuole rompere sì io sono al secondo anno di magistrale e non ho ancora provveduto in realtà mettermi in contatto con nessun con nessun ente privato pubblico e devo presentare comunque da quanto ho capito entro il primo luglio giusto l'accordo nel caso appunto io non adesso lo dico lo dico lo dico francamente dovessi per caso trovare un ente diciamo e mi mettessi in contatto con una bozza e poi loro non dovessero confermarmi quel periodo di mobilità che avevamo accordato questo intacca insomma tutto quanto alla mia domanda oppure no questa è la prima domanda e la seconda è nel caso trovassi un appunto un ente di questo tipo privato pubblico e offrissero una retribuzione di x euro andrebbe ad intaccare la borsa UE che mi viene mi viene data grazie o magari rispondiamo subito non so allora sul fatto che la destinazione all'estero possa darmi un un piccolo contributo economico in riconoscimento del mio stage si può succedere questo non va minimamente di intaccare quello che è il contributo di Ateneo per la mobilità sono due cose separate poi eventualmente sarà a vostra cura fare le vostre dichiarazioni di redditi nel caso che fra le tante cose che facciate lungo l'anno superiate la montare per cui è dovuta la dichiarazione di redditi ecco quindi quello che vi eroga l'istituzione di destinazione o l'impresa l'azienda quello che volete lo prendete direttamente voi e sinceramente non è di interesse per università che comunque continuo a garantirvi la borsa per quanto riguarda le firme io ho preso contatti con l'estero però non sono arrivati a firmare ecco questo è un problema che noi riscontriamo tante volte e la cui soluzione è solamente nel dire che prima di partecipare ad un bando di mobilità devo essermi mosso con largo anticipo per trovare il partner o l'azienda o la struttura l'istituzione che mi accoglierà quindi il senso della mobilità è quello di pensare con largo anticipo rispetto all'esperienza che andrò a fare successivamente se mancasse la firma dell'università di destinazione è un problema nel senso che è appunto requisito all'interno del bando è appunto quello di avere anche l'accettazione da parte della destinazione l'università dice prima di erogare i denari io comunque devo essere certo che anche l'istituzione estera accetterà il mio studente Bicocca per fare l'attività quindi si aprono due strade o la candidatura la si presenta al secondo turno infatti su questo speriamo di venire incontro alle problematiche di chi non ha ancora adesso tutta la documentazione firmata e quindi ci si candida al secondo turno con la documentazione completa oppure non ho grandi soluzioni al di là di dire muovetevi per tempo cioè non aspettate l'uscita del bando per iniziare a cercare l'istituzione che vi accoglie altra cosa è perché potrebbe anche dare il caso di rapporti consolidati che i vostri docenti hanno con determinate istituzioni che hanno accolto già studenti di Bicocca e all'interno del medesimo corso di studio magari ci può essere anche la facilità dell'accettare lo studente cioè il professore dice ti mando il mio studente di fisica guarda viene sempre nel medesimo laboratorio fa le cose adesso non fatemi entrare in dettagli perché non saprei che esempi meravigliosi fornirvi e quindi me lo prendi sì bene guarda c'è da firmare entro e te lo firmano al volo quindi anche queste cose noi le vediamo però si tratta di relazioni consolidate nel tempo e quindi una mobilità che negli anni il docente ha sempre curato verso la medesima destinazione poi magari in quella dove mi abbiamo rovinato sta strumentazione con la Coca Cola ecco lì ci potrebbe essere magari un'interruzione della serie non mandarci più nessuno che ci fa danni ma questa è un'altra storia buongiorno grazie grazie mille allora anch'io sono al secondo anno di magistrale quello che mi chiedevo io è se si partecipa al turno cioè per partire a gennaio 2019 le probabilità che uno riesca a laurearsi a marzo cioè tipo nel mio caso sono sono bassissime cosa succede cioè nel senso se si parte appunto a gennaio poi un'altra domanda è se contatto una ONG che ha sede in Italia ma che ha progetti che ne so Palestina piuttosto che Giordania eccetera vale o o no? allora sulla risposta riguardo alla laurea allora io voglio partire a gennaio bene sei in corso in questo momento ti candidi e parti e tranquillamente fai la tua esperienza all'estero quindi quello che viene appunto considerato peraltro il sistema non vi consente l'iscrizione se siete già fuori corso quindi nel caso di uno che è il secondo anno si scrive perché per me è ancora in corso peraltro fino a quando ha finito tutta la la sua durata normale ecco fino a tutta la sessione ultima di laurea che l'Ateneo consente appunto per laurearsi sul discorso della ONG è un problema nel senso che deve essere chiaro che l'esperienza non si fa in una ONG italiana quindi la certificazione di tutte le documentazioni dovrebbe essere legata alla sede straniera quindi appoggiandosi a non lo so che indirizzo straniero però queste mobilità non sono per rimanere in Italia o presso istituzioni con sede legale in Italia specifico così per capirci meglio ad esempio chi vuole andare a fare per esempio uno stage adesso dico emergency medici senza frontiere ok è un'associazione italiana con sede legale in Italia ok ti devi fare compilare tutto dalla sede estera quindi non mi metti emergency Italia ok cioè deve risultare deve essere palese che sei andata là quindi il responsabile deve essere di là ok se non c'è una vera e propria sede ma c'è un distaccamento parlo di chi ha sicuramente un NG che ha un responsabile o un capoprogetto che è in Giordania per esempio se me lo firma lei è a posto anche se non ha una sede vera e propria nel senso ci sarà un coordinamento di progetto questo intendo una sede materiale ci sarà da qualche parte cioè queste persone sono lì con un non sono lì con lo zaino in mezzo a un deserto spero giusto se no non ti mandiamo neppure a te ecco buongiorno volevo sapere ma accettate anche le firme scannerizzate o il bando deve essere mandato per posta e deve tornare per posta siamo nel 2000 prendiamo anche le scannerizzazioni con l'Erasmus quando l'ho fatto io non era così però e lo so ma l'Erasmus è un'altra cosa sì salve io volevo sapere se mi confermate dunque che bisogna avere dei CFU liberi per poter partecipare al trainship anche se uno parte dopo la laurea allora no se parte dopo la laurea evidentemente evidentemente no però se sei una laureanda che prevedi di partire prima nella laurea evidentemente sì devi avere dei crediti liberi da da utilizzare ok ok a posto ah e poi un'altra cosa io sono al secondo anno di magistrale posso partecipare anche al secondo bando quello di febbraio sì come ha detto prima sì a posta purché a settembre tu non sia fuori corso se non ti iscrivi al fuori corso perché se no vieni bloccata buongiorno sono un dottorando in sociologia ho qualche domanda mi scuso se magari sono cose che si possono chiarire semplicemente leggendo il bando che ancora non c'è rispetto a l'anno accademico da inserire nel diciamo nel non saprei come chiamarlo nel documento di riferimento nei documenti di riferimento dobbiamo inserire l'anno accademico corrente o l'anno accademico per il quale vogliamo diciamo avere il contributo il bando si riferisce all'anno accademico 18-19 quello è dato l'anno accademico ok questo anche per i dottorandi che invece hanno una modalità diversa di conteggiare gli anni nel senso che vanno a cicli ma non importa adesso noi la ragioniamo in termini di calendario quindi le partenze saranno dal 18 fino al 30 di settembre o 30 di novembre 2019 va bene grazie rispetto ai crediti anche noi dottorandi dobbiamo formalizzare un numero di crediti oppure no? no l'abbiamo detto prima per i dottorandi specializzanti che non hanno ovviamente i crediti è però richiesta tre mesi di permanenza continuativa all'estero un'altra domanda rispetto al ritorno a settembre 2019 questo vale solamente per il bando adesso di giugno anche per poi il bando di febbraio? per tutti e due i bandi perché quella è la tempistica dell'anno finanziario Erasmus che si conclude al 30 di settembre 2019 quindi se faccio il bando adesso traineeship avrei la possibilità di fare anche 12 mesi all'estero se faccio il bando traineeship di febbraio nella migliore delle ipotesi più che sei mesi non riesco perché comunque si chiuderà il 30 di settembre 2019 l'ultimissima domanda una persona può fare domanda per il bando per esempio extra o è adesso a febbraio lo vince fa la sua esperienza poi magari a febbraio fa domanda anche per assolutamente sì basta che i periodi non siano nello stesso momento cioè il dono dell'ubiquità abbiamo deciso che non lo mettiamo a disposizione non ce l'abbiamo buongiorno sì io voglio solamente una conferma se avevo capito bene quindi per i laureandi i progetti al di là dell'Europa non prevedono alcun tipo di finanziamento assolutamente solamente Erasmus traineeship dà la possibilità ai laureati di fare la mobilità all'estero peraltro appunto avete sentito con i finanziamenti legati solo all'Erasmus e solo per la quota parte della borsa comunitaria in tutti gli altri programmi no immaginatevi che i fondi dell'Ateneo e del Ministero sono pensati per gli studenti non per i laureati bisognerà fare riferimento ad altre istituzioni per chiedere se ci siano dei finanziamenti grazie buongiorno io vorrei partecipare all'extra UE e ho già collegamenti con Boston quindi ho già referente lei ho già parlato con i professori sono del primo anno di biostatistica magistrale il mio dubbio è si terrà conto per la selezione di sicuri vabbè tanto io vorrei partecipare già al bando adesso per la selezione si terrà conto dei crediti acquisiti degli esami di che esami si tiene conto nel senso fino a quando posso verbalizzare i voti che entreranno nella selezione fino all'uscita del bando quindi 10 giugno si tapari tutti si noi lavoriamo sempre immaginando che adesso con il sistema informatizzato anche del caricamento dei voti se il docente appunto li carica immediatamente in teoria dovrebbero essere già a disposizione però ovviamente lavoriamo sugli esami maturati fino alla data del bando quelli dopo non ci sarebbe neanche modo di saperli conoscere salve allora allora io mi stavo muovendo già da diverso tempo per sottoscrivere il bando di febbraio ma da pochi giorni l'università di destinazione mi ha chiesto che vorrebbe che io sia lì a gennaio con l'inizio del loro semestre devo fare in fretta e furia questo bando o quello di febbraio allora essendo un extra puoi fare quello di febbraio perché scusate faccio anche questa precisazione riferito al bando train ship non si può partire prima della selezione invece il bando extra vi da la possibilità di partire prima della della selezione sono ammessi questi periodi purché il periodo termini dopo l'esito del bando logicamente questa cosa non è un fattore di merito se sei partita prima parti sapendo che devi affrontare la selezione quindi io ti direi prova va bene loro mi chiederebbero di essere lì a metà gennaio con l'inizio del semestre fino al 22 di maggio va benissimo puoi fare il secondo bando ok grazie buongiorno io avrei una domanda sulla compilazione del modulo di autorizzazione forse me la sono persa io c'è da compilare anche la data di rientro giusto è obbligatorio anche quella già da definire subito perché voi avete fatto di quella di partenza allora sì sia la data di partenza che quella di rientro perché dobbiamo fare il calcolo del finanziamento se da quella data poi tu devi modificare ridurre o comunque aumentare il periodo semplicemente nel modulo c'è quello che ho detto il during the period modifichi lì buongiorno avrei due domande io parteciperò al bando training ship volevo sapere per la copertura assicurativa siccome studio geologia di solito durante gli anni qui in Italia viene coperto come assicurazione anche le attività di terreno di rilevamento siccome le farò anche quando sono in questo caso in Norvegia vengono coperte oppure devo richiedere specificatamente all'ente allora avrai la stessa medesima copertura che hai in bicocca quindi se la bicocca ti copre dei campi quando sarai all'estero sarai coperta nei campi ok e poi volevo sapere siccome probabilmente farò anche io il training ship per la tesi quindi dovrei progettare quello volontario se dovessi riuscire anche a fare il training ship per riconoscimento di un tirocinio che sono però due crediti in quel caso per fare entrambi devo progettare tutte e due oppure nei crocetti solo uno va benissimo solo il secondo ecco un'altra specifica molto spesso nelle magistrali ci sono anche i crediti i crediti per la preparazione della tesi che di solito sono due o tre crediti quelli vanno benissimo per il training ship potete mettere anzi metteteli dentro ok mettete fai la somma di quello per esempio io per la tesi ho 32 crediti però sono la tesi con seguimento del titolo e poi ho due crediti di tirocinio quindi dovrei fare 34 esattamente allora specifico nuovamente non si va in training ship a fare la tesi quando tornerete quel lavoro potete utilizzarlo per la tesi quindi tu quantifichi il lavoro metti dei crediti che poi il tuo docente ti riconoscerà per un'eventuale stesura della tesi poniamo che quello che vai a fare sarà il lavoro di tesi se quando rientri il tuo coordinatore ritiene opportuno convalidartelo inserirà nel modulo ti ricordi? allora in quel modulo lì andrà messo sia i crediti della tesi che i due crediti però io comunque metto come volontario sì va benissimo vince quello che porta più che porta più credito buongiorno io sono iscritta al primo anno di magistrale e vorrei andare all'estero con bando train ship dal gennaio del 2019 al gennaio del 2020 per seguire il tirocinio per seguire il tirocinio che poi mi permetterà la stesura della tesi quindi ovviamente nel bando non devo specificare che lo faccio per la tesi giusto si va in tre esci per fare la tesi una specifica nel tuo caso se si sfora il 30 settembre ok ecco allora attenzione che non è una cosa che abbiamo imposto noi quella del 30 di settembre è l'organo finanziatore ossia l'UE che ci dice che i tempi devono essere quelli quindi tu dovrai chiudere il train ship al 30 di settembre ed eventualmente ripresenterai la candidatura per quello successivo quindi io posso fare richiesta per massimo 4 no allora hai già fatto l'erasmus no sei sulla specialistica ciclo unico normale no è 3 più 2 biotecnologie ok biotecnologie quindi significa che se tu non hai fatto ancora l'erasmus sul biotecnologie hai a disposizione 12 mesi di erasmus che ti puoi gestire come vuoi in questo caso allora visto che tu vuoi partire a gennaio puoi fare da gennaio a gennaio sono 12 mesi ci stai dentro va benissimo farai chiedi mesi spezzati sì e poi sì e per la parte mancante a che bando mi devo iscrivere sempre il train ship e quello dell'anno prossimo però sempre in questa data di sì giusto sì ok e poi c'era stato appunto detto che se noi ci assentiamo nel luogo diciamo dove dobbiamo stare quindi all'estero per esami automaticamente voi acquisite nel caso in cui uno dovesse assentarsi per altri motivi diversi come ad esempio l'intervento o cose simili il professore che si trova all'estero ve lo comunica immediatamente o com'è che funziona nell'att o nell'aex nell'ultima parte quindi nella parte quella del rientro l'after mobility i tuoi referenti di là dovranno certificarlo quindi alla fine sì ok e vabbè poi per i CFU da inserire cioè quindi ore in corrispondenza CFU com'è che si allora il tuo è un caso particolare vai dal vai dal tuo coordinatore e riempite riempite il modulo assieme sì ok devo indicare sia i CFU per il percino che visto che ne dividi che il tuo la tua idea è di fare due periodi il consiglio è di mettere nell'att quello in cui tu starei via di più i famosi crediti che poi se il tuo coordinatore riterrà opportuno ti darà per la tesi mentre per il periodo più piccolo invece farai metterai gli altri due quelli di preparazione alla tesi sai che voi avete il ci sono di solito due crediti giusto ci sono due crediti in funzione della tesi che non è la tesi le attività preparatorie ok nel periodo più piccolo utilizzi quello da quanto concerne l'OLS OLS sì visto che devo stare devo rifare due volte il bando quante volte lo devo fare due quindi per due volte allora l'OLS è quella cosa che dov'è che dovresti andare innanzitutto a Dublino a Dublino fantastico quest'anno l'OLS c'è anche l'irlandese se non sbaglio quindi puoi fare un anno l'inglese e un anno l'irlandese vediamo se riesco a imparare l'irlandese e quindi a rientro quando mi scade il primo bando devo fare il secondo no no lo fai mentre sei tieni d'occhio i bandi lo fai mentre sei via sarà l'anno prossimo come in questo periodo ok no devo dire per l'OLS ah l'OLS vi avvisiamo noi vi avvisiamo noi l'OLS penso aspetta che guardo un attimo la collega tipo settembre cosa che cosa per l'OLS per quelli che fanno questo bando su per giù quando è che l'assessment quando è che lo diamo dopo che ci hanno necessariamente detto le date in cui vanno ok va bene quindi sarà da settembre in poi ok se io volessi far richiesta anche della borsa di Ateneo posso farlo sì in fase in cui fossi ritornassi a gennaio però non riesco a laurearmi per tempo a marzo del 2020 la borsa solo del secondo anno d'Ateneo la devo restituire giusto? se mi parli delle borse di Ateneo non te lo so dire io devi chiedere all'ufficio delle tasse potrei dirti una vaccata e invece la tessera qui su cui si caricheranno dove che si fa? è il beige il beige universitario sì è il beige devi semplicemente passare in banca visto che me lo stai chiedendo si vede che non lo sai devi passare in banca a farti attivare la funzione di carta prepagata questa attivazione è gratuita e ci si impiega di più a dirlo che non a farlo quindi ci si presenta lo sportello e lo fanno al volo mi raccomando verificate di avere l'attivazione della carta di credito perché se non l'avete fatto noi eroghiamo la borsa la banca non riconosce la carta di credito ce la rimanda indietro ora che capiamo da questi soldi come mai ci sono rimanate indietro probabilmente il periodo di mobilità è bello che è finito e sarebbe un po' un peccato perché i denari poi te li riassegniamo ma un po' alla fine ecco quindi se una volta la preparata la preparata si esatto ok grazie il pagamento avviene solo con quella formula lì quindi sulla carta prepagata perché è la modalità più rapida per voi e anche per noi e tracciabile piuttosto che sui conti correnti che poi un po' ci si perde ecco buongiorno devo fare un'altra domanda su CFO io sono alpiumano di una magistrale che per la tesi non prevede nessun stage obbligatorio e quindi da quanto ho capito è il relatore che mi mi assegna top crediti per il mio stage questo ovviamente va a modificare il mio piano degli studi perché per esempio se io ho 12 crediti a scelta che ho già assegnato a due esami e il relatore mi dà due crediti per lo stage a me restano 10 crediti che io non so a meno che non mi scegano un esame da 10 crediti però magari faccio fatica a trovare una corrispondenza con un esame da 10 crediti anziché due da 6 crediti quindi poi come gestisco il piano degli studi? Devi parlarne con il tuo coordinatore tutte queste domande che per voi sono nuove in realtà i vostri coordinatori le hanno viste anno dopo anno dopo anno quindi hanno già trovato delle soluzioni che però per noi è difficile darvi come soluzioni uniche perché magari tu sei di non so sociologia quell'altro è di biotecnologie mediche quell'altro ancora è di fisica e i mondi sono un po' diversi le regole sono diverse i coordinatori sono persone che fanno questo mestiere da un po' di anni e quindi hanno già una modalità una soluzione da proporre certo è che se sono fatte delle modifiche è evidente che anche il vostro piano di studio poi lo dovrete allineare rispetto a quello che avete fatto effettivamente perché la mobilità all'estero non è intesa come una cosa tanto per allungare la carriera e ritardarti la laurea ma dovrebbe rientrare in un percorso come appunto parte integrante del percorso stesso e quindi avevo pensato di fare 6 CFU libri e scelta con un esame di storia dell'arte dell'antico Egitto bene no fai piuttosto un periodo all'estero e che mi riconosca 6 CFU e poi lo modifico anche nel mio piano di studio scusate l'esempio stupido ma un po' per capire la logica buongiorno volevo chiedere riguardo ai crediti vuoti perché praticamente se uno ha dato tutti gli esami ma gli rimane solo i crediti della tesi da quel punto il train ship per i crediti vuoti potrebbe utilizzare quelli allora sempre specificando che non si va a fare il train ship durante 1, 2, 3 prova allora sempre ricordando che non si va in train ship a fare la tesi puoi utilizzare quei crediti scusa se poi non te le riconosciamo in qualche modo ti richiamo la borsa l'altro invece era riguardo le date della partenza se uno dovesse partire ad esempio non so l'ultimo caso è gennaio che si avrà a marzo la 20 marzo viene bloccata possiamo andare fuori corso ma in quel caso non potrei più andare in feci oppure si potrebbe ancora fare allora il allora il bando dice che devono iscriversi gli studenti in corso quindi se tu al momento della presentazione della candidatura sei in corso va bene raccomandiamo di laurearsi in corso entro marzo stiamo parlando di un bando in questo momento che esce a giugno magari se riesci a partire un mesetto prima non rischi giusto buongiorno io volevo sapere se vengo preso nel bando di 10 giugno posso partire ad agosto o devo aspettare dal 1 ottobre però sul sito c'è scritto che vale dal 1 ottobre no puoi partire però devi avere deve essere pubblicata la graduatoria e devi avere dichiarato la la borsa ok la borsa allora per chi parte così presto facciamo una deroga per carità potete partire voi avete tempo di dichiarare la mobilità al primo di agosto da quella data lì noi diamo ordine facciamo i calcoli diamo ordine di pagamento sono incerta in questo momento nel senso che non non facendo noi l'ordine di liquidazione in banca dobbiamo passare per altri uffici quindi dobbiamo stare stare anche alle loro chiusure non non ti posso promettere che ti diamo la borsa ad agosto questo è più probabile settembre sì a meno che uno con larghissimo anticipo non ce lo dice così anche noi ci muoviamo con larghissimo anticipo nei confronti delle strutture che poi erogano materialmente alla banca il buono d'ordine il mandato di pagamento che poi finisce appunto con i tempi bancari sulla credito all'interno della tua carta prepagata quindi aspettare l'ultimo giorno è sempre un po' problematico e nello stesso tempo non siamo noi direttamente che facciamo l'operazione bancaria ma anche noi seguiamo un flusso volevo dirvi un'altra cosa riguardo alle mail che mi viene in mente a queste mail tutte le domande ricevono risposta alcune volte la risposta è leggi l'articolo 2 del bando ve lo dico perché quello che c'è già scritto sembra anche strano che lo dobbiamo riparafrasare con parole diverse perché c'è già scritto quello che assolutamente non facciamo è rispondere il venerdì sera il sabato mattina la domenica pomeriggio perché i miei impiegati e il personale dell'università lavorano e rispondono alle mail in orario di lavoro non è che a casa scaricano su whatsapp le mail dell'ufficio e rispondono perché a casa anche noi abbiamo altre cose da fare che non il lavoro il lavoro noi lo svolgiamo dal lunedì al venerdì appunto durante gli orari di ufficio ecco perché vi diciamo anche nelle risposte spesso abbiamo studenti che ci scrivono il venerdì sera sollecitano il sabato mattina risollecitano la domenica mattina e risollecitano la quarta volta il lunedì mattina secondo voi quelle mail a parte che creare confusione all'interno della mail stessa noi le vediamo solo a lunedì mattina peraltro se siamo qui a fare l'incontro le mail di questa mattina aspetteranno fino a che rientriamo in ufficio lo dico perché alle volte uno dà per scontato che uno lavori anche senza essere pagato a casa ma insomma questo non è nel nel contratto ok la risposta non era solo per terra in generale buongiorno io sono una dottoranda e vorrei applicare questo punto per il bando exchange extraeuropeo perché la mia meta sarebbe la svizzera quindi a quanto ho capito non è compresa nei paesi europei dovrei fare quello exchange oltre alla copertura quella garantita europea che voi sappiate c'è anche un aumento percentuale sulla borsa mensile dei dottorandi oppure allora questo l'abbiamo già detto prima allora le borse di dottorato possono vengono continuamente erogate quindi il pagamento della borsa di mobilità non va a confliggere con il diritto alla borsa di dottorato e la maggiorazione del 50% e invece la cosa che abbiamo già detto è che la svizzera non fa parte dell'unione europea quindi la borsa non è comunitaria ma è una borsa appunto ricevuta da altre da un'altra istituzione nella fattispecie dal ministero però non il fatto di ricevere questa borsa di studio non decurta in alcuna maniera la borsa normale di dottorato e la vostra maggiorazione per andare all'estero ok grazie sono di nuovo io volevo chiedere un'informazione rispetto a l'ISEE sul quale sono tarate le borse o alcune delle borse si tratta dell'ISEE che abbiamo presentato per quest'anno accademico o si tratta dell'ISEE che dobbiamo presentare per l'anno accademico a cui si riferisce diciamo alla nostra mobilità allora erogandovi le borse adesso noi facciamo l'estrazione sull'ISEE che è presente in questo momento poi le dichiarazioni dell'ISEE seguono le tempistiche dell'Ateneo non è che siete tenuti a presentare un aggiornamento di ISEE fra una rilevazione e l'altra noi facciamo riferimento a quello l'ufficio TAS e contributi e sono loro a stabilire le tempistiche entro cui dovete presentare l'ISEE faccio un caso per capire meglio se per esempio uno una persona ha un'ISEE che è nella seconda fascia diciamo al momento della presentazione della domanda adesso a febbraio però poi parte adesso a giugno poi parte magari a gennaio o febbraio quando c'è già stata la presentazione dell'ISEE nuovo del nuovo anno accademico ed è differente allora a quel punto la borsa è calibrata sempre sull'ISEE che voi potete diciamo vedere presentato al momento della domanda o è calibrato invece sull'ISEE che c'è al momento della partenza noi facciamo l'estrazione in questo momento quindi la risposta che ti posso dare in questo momento è quello di adesso grazie buongiorno io sono al secondo anno di magistrale e non ho ben capito prima se ad esempio io dovessi laurearmi a marzo prevedo di laurearmi a marzo in questi mesi posso fare domanda sia per il Trenship che per l'extra UE sì ok in caso per il Regno Unito bisogna fare domanda per l'extra UE il Regno Unito è ancora UE fino a che non arriveranno dichiarazioni diverse quindi per ora è Trenship assolutamente sì ok grazie volevo fare un'altra domanda perché pensavo di aver capito invece evidentemente no sempre per quanto riguarda il discorso del tirocinio in previsione della tesi anche se non si dovrebbe fare io devo utilizzare i crediti che potrei utilizzare per esami a scelta oppure in questo caso 32 crediti che mi vengono dati quando ho conseguito il titolo se non mi è chiaro questa cosa allora siccome è un caso non ho in testa tutti i regolamenti didattici di tutti dopo magari se ti fermi un attimo è importante quando poi consegnerete la tesi quindi farete la domanda di laurea c'è ad un certo punto una domanda che vi viene posta su dove avete svolto la tesi e sta a voi individuare identificare tesi finale con mobilità all'estero quindi quello ricordatevi assolutamente di farlo penso che sia adesso io non ho molta non mi ricordo com'è la schermata e a che livello venga fuori la domanda però è importante flegare anche quel particolare là sì vi chiede vi chiedono se la tesi tesi con soggiorno all'estero nella candidatura esatto ricordatevi di flegarla anche perché così le segreterie e gestioni carriere nel caso voi arrivate al limite quindi dovete laurearvi a marzo rientrate dal train ship tre settimane prima e anche magari un giorno prima la segreteria dall'altra parte capisce che deve deve chiedere a noi perché poi riconoscimento va fatto quindi un minimo di tempi tecnici ci vogliono quindi sotto tesi se voi alzate il flag quando presentate domanda domanda di laurea anche i colleghi sono avvisati perché se no non vedono il loro giro se non siamo noi che li avvisiamo ok bene grazie davvero della vostra attenzione e buon train ship buon extra UE a tutti quanti buongiorno grazie a tutti Grazie a tutti